Proseguono a Favara le iniziative collaterali al progetto comunitario Maracanda, oggi nella Valle degli Orti, inaugurazione del mercato del condadino. Tra le arcate del vecchio ponte ferroviario, gli stand di diverse aziende agricole aderenti a Campagna Amica, di Coldiretti e da locale sezione Anvas. L'esperienza, molto apprezzata dai presenti che hanno avuto anche occasione di degustare le prelibatezze esposte sui banchi, ha animato la zona degli orti ed il mercato, che assicurano gli amministratori, diventerà un appuntamento fisso con la città. Alla cerimonia di inaugurazione presenti le autorità politiche e le molte associazioni locali che hanno contribuito allo svolgimento dell'iniziativa. Vedere questa struttura messa a nuovo è davvero una cosa impressionante. Impressionante, specie chi come me e come tanti altri amici ha avuto l'opportunità di vedere come era ridotto questo sito. Ora vederlo così pulito, elegante, armonioso, rappresenta davvero una scommessa che abbiamo vinto, che hanno vinto i tecnici, in maniera particolare l'architetto Sorce. Oggi è la giornata di festa per Favara perché si appropria, seppur ancora in fase di definizione, di una grande area verde, di una grande centralità, di un polmone ossigenato e che prenderà e darà ossigeno a una comunità troppo piena di costruito e che finalmente non più la villetta, non più il giardinetto, ma un grande polmone verde, un grande parco degli orti a disposizione dei Favaresi ma anche dell'Interland Agrigentino. L'augurio è quello che questo, come ho detto precedentemente, questo sito possa essere vissuto per essere proprio tenuto pulito ed ordinato. Questa mattina qui tutta questa gente per l'inaugurazione del mercatino del contadino, c'è pure uno stand dei ragazzi del Lampas. Una bella giornata, una bellissima giornata di sole, ci sono tantissime attività. Presente con una particolare installazione anche alla sede aggrigentina della Facoltà di Architettura con gli allievi del laboratorio di progettazione del professor Guerrera. Tutto accompagnato dalle tradizionali danze e musiche del gruppo Fabaria Folk. Il sito resta visitabile tutto il giorno. Questo pomeriggio, prima alle 18 nel sito e più tardi nel Vecchio Macello, l'inaugurazione e l'apertura della mostra di arte ed architettura contemporanea curata da Farm Cultural Park. Alle 19 giro per il centro storico a cura di diverse associazioni locali. La manifestazione Maracanda si era aperta ieri mattina al Castello Chiaramonte di Favara dove nel pomeriggio è stato attribuito all'artista favarese Turi Morello un riconoscimento speciale. L'autore della splendida tela ha restituito in modo naif la visione della Valle degli Orti nel periodo post bellico. Nella sala del telone rosso è stato anche sottoscritto il protocollo d'intesa tra Italia Nostra e Comune di Favara. Il documento consentirà all'ente pubblico di avvalersi della collaborazione dell'associazione ambientalista che conta una lunga esperienza sulla gestione ed organizzazione degli orti urbani in Italia. C'è molto da lavorare, è uno spazio che potenzialmente potrebbe diventare una specie di valle degli orti. Ora si tratta di mettere un po' d'accordo tutti. Ci sono in quest'area due o tre orti molto ben gestiti, bisogna diffondere questo tipo di modello e lavorare sulle parti comuni per cercare di legare tutti in un'unica realtà, in un unico parco urbano. Secondo me questo in qualche anno potrebbe veramente, Italia Nostra ci spera perché lo fa per questo, diventare un grandissimo progetto di riqualificazione per Favara e un esempio per tutta la Sicilia.